È troppo presto per dire questo. Faremo i conti dopo la quarta giornata dove giocheremo in casa contro l'Union Berlin. Per il momento è ancora troppo presto. L'importante è che abbiamo vinto. Non abbiamo fatto la nostra migliore partita, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo perso troppi palloni, però sapevamo anche che questa squadra vive sui tuoi errori. È una squadra forte in contropiede, è una squadra forte fisicamente e quindi era importante anche non essere esposto a queste possibilità, a queste probabilità del loro gioco. Secondo tempo secondo me più interessante da parte nostra. Abbiamo gestito meglio la pala, siamo andati da un fronte all'altro con più velocità e poi abbiamo fatto un gol che mi è piaciuto non solo sull'assist di Gwisha a Raspa e il movimento di Raspa in area, ma anche sul doppio recupero di pala, una volta il primo di Rachmani molto alto nel campo avversario, soprattutto perché Amir ha giocato con un giallo sulle spalle tutta la partita e poi un duello vinto anche di Mario Rui. È il giorno dove sei un po' meno brillante con la palla, almeno mostrare che lottiamo insieme, difendiamo insieme e essere al livello della sfida fisica del giorno è anche una cosa secondo me molto importante per oggi. Corriere dello Sport Buonasera Nell'ora e mezza più o meno opaca di stasera Perché la Champions League? Tutti quelli che pensavano che era una partita vinta prima di entrare in campo non conoscono niente di calcio, perché la Champions League è sempre complicata, soprattutto fuori casa. Oggi abbiamo visto che anche il Madrid ha sofferto per vincere a Braga e noi siamo stati criticati per aver vinto a Braga e stasera due trasferte, due vittorie e noi sapevamo, perché abbiamo studiato questa squadra che hanno caratteristiche molto precise e siamo stati bravi a non lasciarli esprimere queste caratteristiche. E poi una cosa semplice, per chi ama la matematica, quando hai perso otto volte da fila sei molto più vicino a fare un risultato, anche un pareggio, che di perdere ancora una volta. E quindi siamo stati bravi a vincere qua. Canale 21, e poi Corriere della Sera. Buonasera mister. Buonasera. Sono qui, rapidissimo, siamo nella città del Muro, nei 15 giorni dopo la partita con la Fiorentina. Forse si erano alzati tanti muri, la vittoria di questa sera ha contribuito a buttarne giù un pezzo. E Seconda, crede ancora di poterlo vincere questo Girono di Champions? Io penso che il Napoli possa averne il potenziale. Siamo alla metà. Abbiamo sei punti su nove giocate. Abbiamo perso e non è un buon risultato in casa contro il Madrid. Però c'è ancora tutto da fare. L'unico obiettivo è la settimana prossima, quando l'Union Berlin arriverà in casa o tra due settimane, di vincere in casa al Maradona davanti ai nostri tifosi e avere nove punti. E poi faremo i conti, perché rimangono ancora, dopo questa gara, due partite. Poi la cosa che mi piace, però che non è sparito mai durante la stagione, anche se non abbiamo vinto tutto, è l'atteggiamento dei ragazzi. Oggi ho visto una squadra pronta sul piano mentale, intelligente, pronta a essere presente sulla sfida fisica che ti propone l'Union Berlin. Anche se abbiamo sbagliato delle cose tecnicamente, abbiamo sempre giocato il nostro gioco e infatti abbiamo fatto un gol come lo porta il nostro gioco. Oggi fare dei cross alti per i nostri attaccanti non era una buona idea, visto i tre torri che hanno dietro. Quindi noi dobbiamo giocare con movimento, palla a terra e con un palleggio importante. Nel primo tempo poco movimento e palloni troppi persi. Il secondo tempo molto meglio e quindi l'importante è aver dimostrato che eravamo in grado di vincere qua. Penso che c'è un'immagine che può anche mostrare la qualità mentale del gruppo stasera e determinazione. È il tackle di Nathan davanti alla panchina e la rabbia che ha dimostrato per aver vinto questo tackle. Questo mi è piaciuto un sacco e così voglio la mia squadra. Allora, Corriere della Sera, poi restando in famiglia, Gazzetta dello Sport. Perché in famiglia? Che fanno parte dello stesso gruppo, è lo stesso proprietario, si chiama Cairo. È anche proprietario di altre cose, tipo la 7 e altre cose. Prego. Il presidente del Torino. Anche il presidente del Torino. Complimenti per la vittoria, buonasera. Le chiedo, parlava delle difficoltà nel primo tempo. In cosa non vi è riuscito nel servire Raspadori? Come invece avete fatto poi nell'azione del gol che lei descriveva nella prima frazione di gioco? Penso che quando abbiamo trovato Raspa abbiamo portato poco sostegno. Quando si gioca con lui che viene incontro dobbiamo portare dei giocatori vicino a lui, sotto lui, per poter giocare. Anche se anche lui ha mancato un po' di movimento nel primo tempo e doveva un po' sfuggire della marcatura di Knocchio nel 31. È rimasto un po' troppo nella sua zona. Abbiamo messo troppo poco incertitudine a questa difesa, anche con i due esterni nostri che si sono mossi troppo poco e sono rimasti troppi larghi secondo me. Però Raspa ha fatto gol e veramente se c'è uno che se lo merita è lui. Perché dall'inizio della stagione sempre dà tutto ed è sempre un grande aiuto per la squadra. gli mancava un po' di efficacia e stasera l'ha dimostrata. Buonasera mister. Salve buonasera. Buonasera. Volevo proiettarmi verso domenica. È l'occasione con il Milan di dare un messaggio al campionato che questo Napoli è ancora una squadra da battere e da tenere d'occhio per lo scudetto. E se sta pensando magari a come limitare un po' magari l'Eau che lo scorso anno è stato quello che Napoli ha fatto parecchio male. Se lei viene in conferenza stampa sabato mi rifarà questa domanda. Oggi è Champions League e non abbiamo la testa a questo. Sappiamo che è una grande gara che ci aspetta. Per oggi siamo concentrati e godiamoci questa vittoria. Penso più all'Union Berlin in casa e a preparare mentalmente anche per i ragazzi. da domani si pensa subito al campionato di nuovo. Radio Rai e poi Guido. Se ho dimenticato qualcuno affido a te diciamo la conclusione. Sì eccomi qua. Buonasera. Commento valutazione sua su due giocatori. Poca brillantezza detto. Varaschelia no. Tecnica e lotta però anche nel pressing. E poi volevo un suo parere su questa crescita fortissima di Nathan rispetto all'inizio. Una cosa che mi è piaciuto. Abbiamo lavorato bene sul pressing dei tre attaccanti sui loro tre difensori. E ha funzionato bene perché alla fine non abbiamo concesso quasi niente. È stata una serata abbastanza tranquilla per Alex Meret. È vero che non abbiamo anche creato tanto. Abbiamo avuto poche situazioni offensive. Molto meno che il nostro standard di solito lo permette. Però anche ora una volta è una gara differente stasera. La Champions League era una squadra opponente che ci giocava anche la vita. E non solo il risultato in Champions però il suo ritorno positivo a fare un risultato. E quindi veramente è la gara che mi aspettavo. Quindi abbiamo risposto bene su questa cosa. Poi su Nathan è stato bravo da quando è entrato nell'undici titolare. Il lavoro che abbiamo svolto con lui durante la prima sosta internazionale è stato fatto bene. sul fatto che il gol per esempio annullato giustamente stasera è una cosa che abbiamo lavorato sulla linea difensiva. E non solo lui è stato bravo. Però lui doveva inserirsi in questi meccanismi di tante cose. scappare quando è palla scoperta, allinearsi sui compagni difensivamente, salire di nuovo, accompagnare l'azione. Se è molto alto come l'ha fatto Amir sul recupero di palla anche nel campo avversario quando siamo alti. E prendere il rischio di aprirsi dietro le spalle. però lo vedo con più fiducia e come ho detto su questo tackle ha dimostrato anche con la sua rabbia che è un giocatore che sembra timido così però che secondo me può prendere anche spazio nel futuro perché è ancora giovane sul leadership e sull'impatto fisico che ci può dare. L'ultima abbiamo fatto una promessa ieri, chi non l'aveva riuscita a palla ieri la faceva oggi. Pianeta Napoli e Calcio Napoli 24. Buonasera. Buonasera. Il momento in cui vedeva che non si creavano occasioni da gol, un XG pari a 0,25, pure più basso rispetto a Napoli e Real Madrid dove si è perso. Ha pensato di affiancare a Raspadori Simeone, quindi di giocare a due punte? Grazie. Sì, sì, è possibile giocare a due punte come è possibile giocare con un trequattista e una punta con questi giocatori che lei ha nominato. Però alla fine abbiamo fatto gol e quindi non era più necessario. La cosa che era necessaria è trovare una soluzione al centrocampo su un giocatore forte fisicamente che ci dava una mano sull'impatto fisico, il gioco di testa. E visto che non abbiamo Frank Zambonghisa, anche se non è la caratteristica sua, io da quando conosco questo gruppo e anche il ritiro, l'avete visto per chi ci ha seguito, penso che Leo Stigar ci può dare una grande mano su questa cosa. Soprattutto quando giochiamo delle squadre così che gioco lungo, giocatori forti di testa nella tua area, ti rischi di prendere un pareggio alla fine su un rimbalzo. Non è il calcio che mi piace, però è un calcio anche concreto. Quindi andava risposto e sono contento anche dell'atteggiamento di Leo quando è entrato. Ultima, Calcio Napoli 24. Buonasera mister. Buonasera. Buonasera e complimenti per la vittoria. Ostigard in Mixed Zone ha definito questa vittoria una vittoria, scusi il termine, con le palle. È una vittoria che può rappresentare un punto di svolta per come si è arrivata, un solo tiro in porta, un gol. Segno che si può andare oltre le difficoltà anche non essendo bellissimi. Esatto. Il giorno dove non sei brillante, non puoi essere brillante tutta la stagione. Nessuna delle squadre al mondo lo è, anche se ci sono, e ne facciamo parte, grandi squadre che giocano bene al calcio e che hanno come DNA di avere il possesso palla, di avere tanti movimenti e tante occasioni. O provarci a avere tante occasioni. Però il giorno dove trovi una squadra compatta, una squadra che ti chiude tutti i spazi e che sai che non devi fare un errore, almeno abbiamo giocato anche con la testa e tanto con il cuore quando ci voleva. e sono d'accordo sul fatto che può, lo spero, dimostrare a questa squadra che una squadra deve saper fare tutto e questa sera abbiamo dimostrato di poter lottare anche in questo modo che ci può aiutare ogni tanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.